Da ieri sera a Pinzolo c'è anche Federico Mattiello, benvenuto, il tuo primo approccio con la nuova realtà? Beh, entusiasmante perché insomma il Bologna mi ha voluto fortemente e quindi sono contento di essere qui anche perché è vero che è durata un mesetto la trattativa e quindi ora che sono qui non vedo l'ora di iniziare con i compagni. Come stai dal punto di vista fisico-atletico? Fra tre settimane esatte si inizia a giocare con la Coppa Italia e poi il campionato. Sto bene, ovvio che avendo saltato la prima parte di preparazione devo ancora mettere su qualcosina ma sto bene, fisicamente sono a posto quindi sono sicuro che nel giro di breve sarò a livello dei compagni. L'anno scorso un campionato da protagonista con la maglia dell'asfalti, puoi disimpegnare sulla destra, sulla sinistra, cosa preferisci? Ma quello dovrà essere poi il mister a decidere, io sono disponibile a qualsiasi ruolo, a qualsiasi posizione anche perché la posso fare appunto come hai detto te sia a destra che a sinistra quindi deciderà poi l'allenatore. Una realtà in cui in questo momento c'è grande entusiasmo, arrivi in un Bologna rinnovato che ha tanta voglia di fare bene cosa ti senti di dire come saluto ai tuoi nuovi tifosi che magari dall'amichevole di oggi comincerai a conoscere? Sì, devo dire che vedo molto entusiasmo nell'ambiente, a partire dai ragazzi a tutta la società quindi c'è voglia di fare bene e io per primo vorrò fare una grande stagione quindi non vedo l'ora, ripeto, di iniziare, sono carico a mille. Grazie. Fantastico. Grazie.